Il giorno più lungo per BPV e Veneto Banca, il Consiglio di Amministrazione della Popolare di Vicenza ha ascoltato la relazione dell'amministratore delegato Fabrizio Viola in merito al processo di autorizzazione della ricapitolizzazione precauzionale e funzionale al riassetto dell'Istituto di Credito e con il Ministro delle Economie e delle Finanze. Al momento non c'è nessun problema di liquidità, dice Viola, e il Governo conta di arrivare a una soluzione consolidata in tempi brevi. L'unica speranza per la Popolare di Vicenza e per Veneto Banca potrebbe essere rappresentata da investitori stranieri e intanto si apprende che anche la Procura di Milano apre un'inchiesta sulla Popolare di Vicenza relativa al reato di ostacolo all'attività degli organi di vigilanza e a presunte manovre compiute dagli ex vertici dell'Istituto di Credito per mascherare operazioni illecite agli occhi della Consob.